Yolanda Lotta, la dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, il Glemur del Natale. L'amministrazione comunale di Leporano ha voluto manifestare la sua sensibilità verso questa iniziativa patrocinando l'evento. Una Leporano che è sempre attenta al contatto con la gente, alla crescita del territorio, anche attraverso la vicinanza a queste attività, ma soprattutto un'amministrazione comunale che guarda i più deboli e quindi sposa questa iniziativa che ha alla base la solidarietà. Noi come amministrazione comunale abbiamo voluto considerare proprio questa opportunità di valorizzare anche le risorse locali, nell'imprenditoria locale. Qua c'era arrivata questa proposta da parte di Glemur di Margherita e del Centro Selene di Elena e insieme con questo connubio hanno voluto valorizzare la donna tra la bellezza, l'amore, lo stile. Insieme a questa bellezza però c'è anche la solidarietà perché hanno voluto questo connubio di bellezza, l'hanno voluto intrecciare con la solidarietà e ricavato della serata andrà a un'associazione del Tarantino. Diciamo che infatti per il reparto di pediatria dell'ospedale di Taranto in questo modo ci si sente, si diventa più belli e più buoni? Sì, si diventa più buoni ma diciamo che si è più vicini e più deboli, i bambini sono il nostro futuro e noi puntiamo al futuro.